Il vero significato di questo testo è un'aperta critica alla società odierna, che trasuda di egoismo e ipocrisia. In essa stanno scomparendo tutti i valori umani che porteranno inevitabilmente l'uomo nell'abisso. Un uomo, disgustato appunto da queste bassezze, si rifugia in un dialogo con il mondo metafisico. Egli però, comunicando con l'oltretomba, spera di riuscire a trovare risposte, rimedi contro i mali che affliggono l'umanità, ma non ottiene nessuna indicazione utile se non risposte enigmatiche che hanno in fondo lo stesso significato. L'uomo si è illuso, dopodiché impazzisce. I brani sono Stare solo Medium Essere E incubo E Grazie a tutti. 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 Medium. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.